. Uomini e donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro, il gesto che lo ha fatto arrabbiare Uomini e donne gossip, Alex Migliorini geloso di Alessandro D'Amico, ecco perché l'extronista si è arrabbiato. Dopo essere usciti insieme da Uomini e donne, Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sembrano essere più uniti che mai. Attualmente i due ex protagonisti del Trono Gay vivono insieme a Milano e, stando a quanto dichiarato, sembrano avere tanti B e i progetti per il futuro. . Come spesso però accade ad altre coppie, uno dei due sembra essere un po' più geloso rispetto all'altro. . In questo caso, per la precisione, è stato Alex Migliorini a dare i primi segnali al riguardo. . Ma cosa ha fatto Alessandro per farlo arrabbiare? Tutta colpa di un naufrago dell'Isola dei Famosi. . Si avete capito bene. . Ad attirare l'attenzione di Alessandro D'Amico è stato Marco Ferri, cui foto è stata postata dall'ex corteggiatore su Instagram. . Datemi una ragione per continuare a vedere l'Isola ha scritto quest'ultimo in una stories, aggiungendo poi, fatelo restare. . Il messaggio non è passato inosservato agli occhi di Alex che, di tutta risposta, con una stories ha voluto ironicamente mettere in riga il suo fidanzato. . . E dopo questa datevi una ragione per continuare a stare con lui dichiara Migliorini a giocare con il fuoco prima o poi ci si brucia. . Isola dei Famosi, Marco Ferri Nominatio. . Lo stesso entusiasmo dimostrato da Alessandro D'Amico nei confronti di Marco Ferri, però, non sembrano averlo avuto i naufraghi dell'Isola ieri sera. . . Il ragazzo, infatti, è subito andato in Nominatio insieme ad Eva Henger. . . Ma perché Marco Ferri ha ricevuto così tante Nominatio? Tra gli spettatori inizia già a farsi strada l'ipotesi di complotto. . . Il giovane potrebbe essere un personaggio molto forte che tutti, consapevoli di ciò, stanno cercando di far fuori fin dall'inizio. . . Sarà davvero così? Forse è ancora troppo presto per dirlo o forse, come successo in passato, il pubblico potrebbe già averci visto lungo anche questa volta. .